Un caro saluto a tutti i parrocchiani di Breganzona, ritengo molto belli ricordi della mia visita in vostra parrocchia. Sono molto felice di avere le notizie da voi e vorrei ringraziarvi per la vostra iniziativa di concerto che avete fatto per la raccolta dei fondi per la nostra chiesa in Cogna. La nostra chiesa in Cogna è molto lontana, qui più o meno 600 km, la più vicina chiesa di lì è a 250 km a Ancala. È molto importante perché questa chiesa è scostruita nella città Iconium, la vecchia città Iconium è una piccolissima comunità cristiana, si tratta di sostenerla e di dare la possibilità per vivere una vita parrocchiare, una vita comunitaria. Questo segno della vostra benevolenza e della vostra generosità è per noi molto importante perché significa che siamo fratelli e sorelle della fede. Io vi ringrazio di cuore nel nome della nostra Arce Diocesi e vi ringrazio e vi prego per il Signore vi ricompensi per tutti i doni che fate per la missione. Il Signore vi benedica e vi dia ogni bene. Grazie. Grazie.